Va va, questo è l'outfit di oggi, di questa mattina qui, la maglia è sua e il pantaloncino è mio E niente, adesso ti dico la verità, stiamo andando a comprare due mutande che ce le abbiamo tutte cagate e pisciate Non abbiamo trovato una lavanderia, tutte cagate e pisciate e sgommate Adesso qua abbiamo trovato questo cinese grandissimo, dicono, e vediamo che cazzo si può andare a comprare, vediamo se si può risformare un po' di piccioli Ma questo è un fioraio, non un cinese, tutti i fiori di morte Questi qua mi voglio comprare io, va, va, anche per rifrescare di sotto, va, va che belli che sono Va, va che bella questa con Jennifer Lopez, va, va, va che bella, va, va Vuoi vedere la cosa che ti sei presa tu? La camicia? Bella, va, uguali È macchiata la tua Va, 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 guarda che bella Va, va Troppo lunga Sì Va, va, guarda questi, mori, va, 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 va Ma come li devo vedere se me li sbattete in faccia E non ti piace? Non ci piace sbattere in faccia Allora Ma non mi fa impazzire sto negozio, ti dico la verità, poi i prezzi troppo 13 euro una maglietta, ma qua ce ne stiamo andando fuori di casa Va che belli si vestaglia, ma com'è possibile che quando vado nei negozi vado sempre, finisco sempre nel reparto Pigiami, va, sembra un po' tipo Samara questa cosa, però è bella Allora